Per la modellazione della copertura seguiremo una procedura leggermente diversa rispetto a quella dei piani inferiori. Questa sarà infatti modellata per mezzo di quattro falde delimitate dai muretti bassi sotto gronda e dalle travi di colmo e di displuvio. I muretti bassi sotto gronda non sono altro che un'estensione della muratura perimetrale del piano primo. Utilizziamo quindi il comando copia al piano per copiare al piano superiore tutti i muri perimetrali del piano primo. Passiamo quindi al piano copertura. I muri così definiti hanno un'altezza di due metri pari a quella specificata per il piano copertura. Noi vogliamo che questi muri siano sotto gronda che quindi abbiano un'altezza di 50 cm. Definiamo quindi un valore del delta H iniziale e del delta H finale pari a meno 1,5. A questo punto selezioniamo tutte le aperture e specifichiamo una distanza da base e un'altezza nulle. È importante mantenere queste aperture fittizie in modo che la corrispondente porzione di muratura sia modellata come fascia muraria invece che come maschio, coerentemente con la struttura del piano sottostante. Raccordiamo quindi i muri utilizzando il comando raccorda. Per inserire le travi utilizziamo come riferimento delle linee infinite che rappresentano la bisettrice dei vari angoli orientate a 45 gradi. Inseriamo quindi le travi di copertura specificando sezione 300x300 e materiale legno. A questo punto eliminiamo le linee di costruzione e selezioniamo le travi di displuvio impostando per S un valore del delta H iniziale pari a meno 1,5. Possiamo ora inserire le falde utilizzando il comando solaio e cliccando all'interno delle regioni individuate da muri e travi. Selezioniamo ora i vari solai e specifichiamo come tipologia falda. In questo modo nella rappresentazione grafica del solaio compare una linea di riferimento che rappresenta la linea di gronda, mentre un trattino rappresenta la direzione di salita. È necessario posizionare utilizzando i grip la linea di gronda nella giusta posizione. Ripetiamo quindi questa operazione per tutti gli altri solai. A questo punto specifichiamo per le falde un delta H della linea di riferimento pari a meno 1,50 e una pendenza della falda pari al 30%. Specifichiamo inoltre i seguenti carichi distribuiti Permanente Permanente non strutturale e variabile Il carico variabile sarà associato alla condizione di carico neve. Ai soli fini della rappresentazione specifichiamo per le falde il materiale legno. Infatti il peso proprio è quello definito manualmente nella condizione di carico permanente. Per finire, per queste due falde, è necessario modificare la direzione principale impostando un angolo pari a 90 gradi. Con questo si conclude la modellazione del piano copertura. Passiamo ora alla modellazione delle travi di fondazione portandoci nel piano fondazione. Per avere un riferimento per l'inserimento delle travi possiamo selezionare il piano seminterrato e attivare la voce riferimento. In questo modo è possibile visualizzare una traccia dei muri del piano superiore e inserire le travi sfruttando gli snap. Attiviamo il comando trave e specifichiamo materiale calcestruzzo e una sezione che abbiamo precedentemente definito rettangolare di dimensioni 1000x400. Inseriamo quindi le travi specificando il punto iniziale e il punto finale dell'asse di riferimento. Poiché siamo nel piano fondazione, le travi sono state automaticamente definite in fondazione e nel modello strutturale saranno trattate come aste su suolo elastico alla Winkler. In questo caso l'edificio presenta fondazioni su piani sfalsati. Sarà quindi necessario definire delle aste di fondazione anche sotto i muri del piano terra. Andiamo quindi al piano seminterrato e questa volta attiviamo come riferimento la traccia del piano terra. Inseriamo quindi le travi facendo attenzione che la loro traccia non tocchi la traccia dei muri del piano seminterrato. In questo modo eviteremo che in fase di modellazione strutturale siano creati dei link rigidi tra le travi di fondazione e i maschi in elevazione del piano seminterrato. Per queste travi, definite nel piano seminterrato, sarà necessario specificare manualmente che si tratta di travi di fondazione. A questo punto abbiamo completato l'inserimento degli elementi strutturali. Prima di procedere con la creazione del traio equivalente, è opportuno apportare alcune modifiche per una corretta schematizzazione della struttura. Estendiamo quindi la vista 3D, nascondiamo i solai e attiviamo l'anteprima della struttura per visualizzare un'anteprima degli assi del telaio equivalente. Nonostante la struttura sia abbastanza regolare, notiamo diverse situazioni che possono essere perfezionate. In questo caso, ad esempio, notiamo che alle aperture del piano seminterrato non corrispondono aperture al piano terra e al piano primo. Ai piani superiori abbiamo quindi dei maschi di notevole lunghezza che insistono sul maschio centrale del piano seminterrato definito tra le due aperture. Questa situazione può essere migliorata spezzando i muri dei piani superiori in modo da ottenere una schematizzazione simile a quella del piano inferiore. Attiviamo quindi il comando spezza. Selezioniamo il muro da spezzare e scegliamo di spezzarlo in corrispondenza della mezzeria della prima apertura e confermiamo con il tasto destro. Ripetiamo l'operazione per la seconda apertura. In questo modo, il maschio originario di notevole lunghezza è stato suddiviso in tre maschi e la struttura riacquista una certa regolarità. Ripetiamo la stessa operazione per il muro del piano primo e del piano copertura. Una situazione analoga si verifica nella parte sinistra della stessa facciata. Applichiamo anche qui lo stesso principio. Nella parte retrostante del fabbricato notiamo che il muro del piano seminterrato data l'assenza di apertura è schematizzato come un unico lunghissimo maschio. In questo caso, è opportuno spezzare il muro in corrispondenza delle aperture soprastanti in modo che sia discretizzato in più maschi. Attiviamo quindi il comando spezza per spezzare il muro. Nei muri interni notiamo un caso in cui il maschio del muro superiore grava sulla fascia muraria relativa all'apertura del piano inferiore. Anche questa situazione può essere migliorata spezzando i muri dei piani superiori in modo che gli assi dei due maschi risultanti non insistano sulla fascia muraria ma su maschi sottostanti. Nel prospetto ovest notiamo che questo maschio del piano terra è a cavallo tra la trave di fondazione e il maschio del piano seminterrato. In questo caso, è opportuno spezzare il muro in modo da avere due maschi uno che insiste sulla trave di fondazione e uno che insiste sul muro sottostante. L'ultima operazione da effettuare in questa fase consiste nel definire le pareti significative ai fini della sicurezza in modo da individuare correttamente la capacità della struttura in analisi pushover. Per definire le pareti significative è sufficiente selezionare tutti i muri di un paramento e assegnarli una sigla comune nella proprietà paramento. In questo caso, ad esempio, utilizziamo la sigla X1 in quanto si tratta del primo paramento in direzione X. Ripetiamo la stessa operazione per tutte le altre pareti significative. Ad esempio, in questo caso, avremo la parete X2, la parete X3 e le pareti Y1, Y2 e Y3. Abbiamo volutamente ignorato alcune tramezzature interne perché ritenute non particolarmente significative per la sicurezza della struttura. Con questo termina la prima fase di modellazione e possiamo passare alla fase successiva creando il modello strutturale. Grazie. Grazie a tutti.